Scusi, cos'è il buono del paese? Venga, l'accompagno. Il buono del paese sono i nostri produttori. Come Fabio, che conosce le sue mele una a una. Come Alice, che fa la pasta secondo tradizioni. Il buono del paese è per Pietro, che ama il gusto dei prodotti tipici regionali. Con il buono del paese vi accompagniamo nel meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 19 febbraio, hamburger gourmet, sapori ed intorni Conad a 2,90 euro. Conad, persone oltre le cose. Conad, persone oltre le cose.